cosa tocchi? cosa tocchi? non c'è niente ma come non c'è niente? è un'opera d'arte l'anciulata guardi è diventato cieco guardi no la vede questa? si è bene qua dentro c'è suo figlio come? mio figlio signorina mi scusi ma lei con questa rivelazione mi ha spiazzato completamente ma però non mi parli come se io le fossi saltata addosso come se l'avessi stupata stupara sturata ma che chiesto stai a dire? l'italiano è una lingua maledetta insomma signorina e poi facciamo un po' i nostri conti se ci pensa bene sono almeno passati almeno eh beh almeno quasi tre anni è colpa sua come colpa? si perchè lei è vecchio e c'è il seme lento come il seme lento? e ci mette di più com'è il suo effluvio quotidiano? mi dica diciamo buono cioè fate in bagno regolarmente non ma che cosa ha capito? io intendevo dire la perdita dei capelli ah? quanti capelli perde al giorno? eh non lo so mica mi mette con i capelli dottoressa male male lo deve fare la perdita dei capelli è importante molto importante ogni persona perde circa 100 capelli al giorno veramente muoce una strage se ne perde più di quanti ne ricrescono va incontro alla calvizie non lo so è vero Grazie a tutti 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 Grazie a tutti